Ancora un sopralluogo nelle zone colpite dall'alluvione lo scorso 27 luglio nell'Aretino. Stavolta sono stati i rappresentanti del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile a recarsi nei comuni della provincia di Arezzo maggiormente colpiti dall'ondata di maltempo. La visita rientra nell'iter attivato dalla Regione Toscana per il riconoscimento da parte del Governo dello Stato di Emergenza Nazionale, ad accompagnarli i tecnici regionali della protezione civile e del Genio Civile insieme al personale della provincia e del Comune di Arezzo. Sono state visitate le zone dove sono stati fin da subito attivati i primi interventi, corsi d'acqua, strade provinciali e comunali, abitazioni e zone industriali che hanno rilevato le criticità maggiori. A circa due settimane dall'evento, come hanno spiegato i tecnici della protezione civile regionale, le zone risultano pulite grazie al lavoro compiuto da volontari e dal personale degli enti locali. La situazione è dunque sotto controllo, adesso si cercherà di individuare possibili soluzioni strutturali per mettere in sicurezza il reticolo idraulico.